buongiorno nuovo video svuoto da spesa ticota vi faccio vedere che cosa ho preso perché mi servivano un po di cose e quindi ve le mostro scusate la mia voce ma un po di raffreddore quindi è così bicchieri ho preso questi qua ho speso 101 mi pare poi ho preso proteggi sui tip anzi su qui lo scontrino ho speso 132 poi ho preso per via di raffreddore pacco scorta di fazzoletti poi tre di questi pacchi di liso forno igienizzanti perché erano gli unici che costavano meno si trovi erano in avvicinabili adesso ecco l'altro sono 30 però quando si ritorno le ritengo poi ho preso due pacchi di mutande mestruali perché sono molto molto comode e ho preso taglia e l'erano l'offerta 13 90 poi un pacco comunque di nuvenia sempre assorbenti giusto per averle a casa poi pile spero di averle prese giuste questa volta poi in offerta a 1,48 ho preso 1 2 3 4 5 pacchi di liscia quadrotti dischetti due pacchi di spazzolini per i denti poi una crema solare per il viso ho preso questa qua della termolab per provarla 7 95 poi uno altri due che ho trovato e altri due poi diodorante in spray ho ripreso uno per scorta poi un cielo all'acido iarulonico questo qua della bioteca italiana concentrato spero che mi piaccia perché non l'ho mai trovato un dentifricio colgate questo qua poi e poi tre pacchi di saldette ultime e poi vabbè ho preso altre cose per mia mamma che non vi faccio profidere spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo presto grazie